Sono uno bucino intelligente, benvenuto nel nostro ristorante. Per ora presta servizio nella zona bar dell'hotel Millepini di Montegrotto. Assunto una decina di giorni fa, Bob è entrato a pieno titolo a far parte dello staff con funzioni di cameriere eseguite con grande precisione nel percorrere il tratto Cucina Bar. La cucina lui fa da spola praticamente tra i due reparti, va in cucina, carichiamo i piatti di cui abbiamo necessità da servire poi ai nostri ospiti e li porta direttamente al bar dove i nostri collaboratori prendono e poi fanno il servizio direttamente al tavolo ai nostri ospiti. Bob non fa il servizio direttamente al tavolo ai clienti, siamo noi che dopo interagiamo. Comunque ci dà una buona mano. Alto poco più di 1,30 m, Bob può trasportare fino a 4 vassoi muovendosi su ruote ed evitando ostacoli su percorsi programmati attraverso un'applicazione. Una prova spiegano dall'hotel Millepini per sopperire alla cronica mancanza di personale nel settore. Purtroppo sì, soprattutto negli ultimi due o tre anni abbiamo avuto difficoltà per riuscire a ricostruire un attimino il nostro team dopo la pausa che abbiamo dovuto avere un po' tutti per la pandemia. Adesso per fortuna siamo riusciti a coprire un po' tutte le nostre necessità. Diciamo che sì, ci sarebbe sempre bisogno di avere comunque nuove leve disponibili che si avvicinano al mondo dell'hotelleria e della ristorazione. Bene accolto sì, soprattutto anche dai clienti, sorpresi di averlo visto in opera e diciamo che qualcuno di loro si è fatto anche delle foto, dei video. Comunque sì, è stata una piacevole impressione che hanno ricevuto da Bob.